L'elemento cardine del paesaggio del Casentino, di quello che sarà anche il nuovo aspetto morfologico che va a ridisegnare il piano strutturale intercomunale, è la ciclopista dell'Arno e quindi questo nuovo modo di fare anche turismo e di vivere il paesaggio, l'ambiente e la natura. Questo tratto è praticamente già attivo da un anno a questa parte, è stato inaugurato, se non erro, proprio circa un anno fa, mi sembra, e collega Prato Vecchio Stia, partendo praticamente da Parco di Stia, fino a Castel San Nicolò, c'è ancora da realizzare una passerella per arrivare proprio qui nel centro abitato di strada in Casentino che è il capoluogo di Castel San Nicolò. E poi su Castel San Nicolò c'è anche lo snodo con una seconda passerella ancora da realizzare verso poi la tratta che andrà a Poppi. Quindi sicuramente per l'Alto Casentino lo snodo della zona industriale conosciuta come Piper è uno snodo importante perché collega praticamente la viabilità di Poppi con quella di Prato Vecchio Stia. Grazie. 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 Grazie.